Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Stay Nerd dedicato ad anime e manga Giappone. Oggi ci ritroviamo qui per iniziare al meglio dicembre, stiamo ormai volgendo al termine dell'anno ma prima di Capodanno abbiamo Natale e questa puntata perciò vuole esservi d'aiuto per trovare qualche bel regalo a tema Giappone. Per chi non lo sapesse siamo anche su YouTube e quindi per chi mi sta ascoltando solo via audio mi trovate anche in video dove potrete vedere alcuni dei regali che andrò a citarvi perché ovviamente li ho in primis e quindi ovviamente potrete vedere di cosa si tratta e capire se fa per voi perché dovete pensare prima a voi stessi però anche per i destinatari appunto dei vostri regali e quindi mi auguro che possano essere di ispirazione sono appunto consigliati da me in quanto io per prima li ho provati, li ho testati e li ho apprezzati soprattutto quindi davvero spero vi possano essere utili e quindi cominciamo subito perché comincerei dai giochi da tavolo ho già fatto una puntata sempre del podcast dedicata ai giochi da tavolo a tema Giappone, ve ne ho citati alcuni tra quelli diciamo sia abbastanza facilmente reperibili sia comunque diciamo accessibili anche a chi di solito non gioca molto ai giochi da tavolo oppure ha appena iniziato quindi ecco ce ne sono altri oltre a quelli che vi ho citato in passato ma ovviamente ho evitato di dirvi quelli di difficoltà maggiore mi viene in mente per chi li conosce magari un rising sun ecco quello è un po' complesso per chi si approccia da poco ai giochi da tavolo quindi io invece vi propongo qualcosa che tra l'altro potrete benissimo giocare subito durante le vacanze di Natale magari tra Natale e Capodanno appunto per intrattenere anche la famiglia e io comincerei intanto con una roba adatta a quattro giocatori quindi appunto una famiglia di quattro persone oppure con qualche amico che insomma riuscite a vedere durante le vacanze ovvero Kanagawa eccolo qui questa è una scatola stupenda già solo per la cover insomma quindi ve lo raccomando solamente per l'estetica no scherzo anche per il gioco in sé di cui se non sbaglio vi ho parlato nell'altra puntata del podcast ma di base per farla breve consiste nel creare uno dei classici dipinti della tradizione giapponese su un rotolo diciamo che si spiega in orizzontale quindi un emakimono e con le carte che si andranno a pescare eccole qua così attraverso la scuola perché ogni giocatore insomma è come dire del famosissimo maestro Kusai chi non intuisce chi è si tratta del pittore della famosissima grande onda di Kanagawa che tra l'altro ovviamente quindi dà il nome al gioco ed è molto bellino ma se non dovesse bastarvi il gioco base o magari l'avete già comprato quando ve l'ho consigliato la volta scorsa c'è anche la piccola espansione intitolata Yokai proprio perché introduce questi fantasmi questi spettri maligni gli Yokai appunto e quindi un'ulteriore difficoltà al gioco insomma così se l'avete già provato diverse volte insomma potreste allungarne la vita e la giocabilità e inoltre vengono aggiunti anche dei nuovi obiettivi e delle nuove carte per appunto aggiungere anche dei nuovi soggetti al vostro dipinto ci sono i palazzi, ci sono personaggi quindi magari tipo la gesha oppure il samurai poi degli animali tipici comunque di questo tipo di dipinti tradizionali e qua vengono aggiunti appunto ulteriori soggetti come le lanterne o gli ombrelli di carta tipici giapponesi quindi Yokai sicuramente è anche un'ottima aggiunta se volete fare comunque un regalo insomma completo e quindi dopo Kanagawa passiamo invece a un paio di giochi che proprio potreste fare con l'intera famiglia cioè se al pranzo di Natale o a Capodanno ci sono anche zii oppure qualche nonno un po' arzillo che insomma ha voglia di giocare e volete proporgli magari qualche gioco di carte che non sia il solito scala 40 ecco allora possiamo proporre a tutti Sushi Go Party Party perché esiste anche il Sushi Go classico diciamo però questo qua permette di giocare fino a 8 giocatori e quindi è molto più divertente insomma vedere le scelte di ciascuno perché il draft che è il tipo di turno che si svolge ci si passa le carte a vicenda e se ne sceglie una prima di passarla ecco il draft richiama un pochettino il Kaiten Sushi quindi i classici ristoranti ormai che più che altro qui in Italia come nel resto del mondo abbiamo rispetto al Giappone con il nastro trasportatore per chi non lo sapesse in realtà il Sushi ecco è una cosa molto più raffinata e che va gustata in maniera piuttosto attenta e quindi in realtà il Kaiten Sushi di solito viene ritenuto diciamo di qualità molto minore molto più bassa rispetto al Sushi di qualità però ecco in realtà con Sushi Go Party vi divertirete perché ad ogni pezzo di sushi diciamo o comunque ad ogni piccola portata come ad esempio anche i contorni come gli edamame oppure le salse quindi il wasabi o la salsa di soia ecco ognuna di queste cose ha assegnato comunque un effetto che quindi insomma farà avere dei punti che insomma su Sushi Go Party come vedete tra l'altro è bello spesso perché è veramente pieno di carte e io tra l'altro le ho pure imbustate quindi così vengono protette meglio perciò in realtà potreste addirittura regalare oltre al gioco oppure le bustine sono sì bustine di plastica diciamo fatte però ritagliate apposta per la dimensione di queste carte in realtà le trovate anche di altre dimensioni per altri giochi caso mai il vostro destinatario oppure voi abbiate già altri giochi che vorreste proteggere meglio quindi ecco magari se pensate possano essere una cosa un'aggiunta extra carina regalate anche le bustine e sapete che ci stanno benissimo qui dentro ed è davvero simpatico e facilissimo appunto non richiede particolari conoscenze di altri giochi da tavolo quindi Sushi Go Party è proprio veramente adatto a tutta la famiglia e poi beh si chiama party quindi assolutamente adatto proprio ad una festa a un momento di svago con la famiglia, i parenti e gli amici e sempre per insomma un momento in cui si è in tante persone però diciamo non si sa bene cosa fare ci si sta anche un po' stufando secondo me delle chiacchiere un po' insomma quelle che si ripetono ecco durante le feste quindi dopo un po' veramente non se ne può più di rispondere alle solite domande quando è che ti laurei ma la fidanzatina e queste cose qui ecco un altro gioco perfetto tra l'altro ancora di più secondo me per Capodanno è Hanabi Hanabi significa letteralmente fiori di fuoco ma si tratta quindi dei fuochi d'artificio e in questo caso qua si parla dei fuochi d'artificio che si svolgono magari durante le feste tradizionali estive soprattutto ma ovviamente anche in Giappone li sparano durante il Capodanno e cose simili e anche questo gioco è adatto a praticamente tutti ma si può giocare fino in due quindi anche qui magari una famiglia di tre persone più un paio di zii o di amici e in questo caso però si tratta di un gioco collaborativo quelli che vi ho detto prima Kanagawa e Sushigo sono insomma competitivi ognuno gioca per vincere mentre Hanabi è proprio un gioco in cui si vince tutti insieme collaborando perché ci sono cinque tipi di fuochi d'artificio di tutti i colori che vedete anche sulla copertina del gioco e bisogna riuscire a farne la sequenza corretta quindi ci sono le carte dei fuochi d'artificio che vanno da uno a cinque per ciascun colore bisogna metterle in ordine qual è la particolarità? è che voi giocatori potreste sbagliare a posizionare l'ordine delle carte perché voi non vedete i fuochi d'artificio che avete in mano ma solamente quelli degli altri giocatori quindi saranno gli altri giocatori a dovervi dire che cosa avete in mano potendovi dire solamente se avete un certo numero della sequenza oppure un certo colore del fuoco d'artificio quindi ci sono questi suggerimenti che ci si dà a vicenda e dovrebbero permettere di riuscire a fare un bel spettacolo di fuochi d'artificio e questa è una nuova edizione tra l'altro di Hanabi c'era anche un'altra più piccolina con una scatolina di latta molto portatile però io vi consiglio anche questa scatola un po' più grande perché insomma fa il suo effetto ed è più carina e poi le carte hanno una forma diversa non sono quadrate ma sono allungate e rettangolari però ecco questo più o meno è l'aspetto del gioco e secondo me è anche più comodo perché invece con le carte quadrate bisognava tenerle in mano invece in questo caso avete proprio un cosino di plastica che ve le regge e ve le tiene appoggiate sul tavolo bisogna solo fare attenzione a ricordarsi di non doverle vedere quindi mi raccomando però Hanabi è davvero un giochino carino che anche questo ha insomma una buona rigiocabilità se soprattutto avete comunque modo di giocare a tante altre cose ecco questo lo tirate fuori in occasioni in cui state con tante persone secondo me funziona alla grande bene passando ora invece a libri e fumetti vi voglio consigliare partiamo dai manga quanti volumi abbia una persona di una certa serie oppure comunque non potete diciamo permettervi di regalargli una serie intera insomma ecco potete tra virgolette ripiegare su volumi unici o cofanetti e io vi consiglio innanzitutto a prescindere diciamo dai gusti della persona secondo me fate una bella figura anche se magari siete poco esperti se regalerete al vostro destinatario un qualsiasi manga di Osamu Tezuka io ho questi due al momento proprio perché sono volumi unici tra l'altro come vedete questo è delitto e castigo ed è letteralmente ispirato ecco al famoso romanzo russo e diciamo è sì la sua rivisitazione semplicemente in chiave manga fatta dal dio del manga Osamu Tezuka come viene chiamato quindi diciamo che è molto interessante vedere come venga riprodotta questa storia attraverso l'occhio di Tezuka e soprattutto attraverso quindi quelle vignette e quindi la struttura in generale del manga mentre poi altrimenti abbiamo Barbara almeno io ho comprato Barbara che parla di questa ragazza abbandonata a se stessa e dedita all'alcolismo e che viene però insomma salvata da uno scrittore e insomma c'è poi tutto il loro rapporto vedete che anche è un bel mattoncino molto d'effetto secondo me da regalare ma in generale tutti i manga di Tezuka che stanno venendo pubblicati da J-pop soprattutto sono un ottimo regalo proprio perché si tratta del fondatore praticamente del manga che conosciamo oggi e praticamente qualsiasi mangaka è stato influenzato da Tezuka non c'è storia quindi fareste una bella figura sia che voi conosciate il mondo dei manga sia che no perché davvero è secondo me imprescindibile e quindi Osamu Tezuka è da tenere d'occhio e per fortuna J-pop ne pubblica tantissimi di sue opere anche perché Tezuka è stato molto molto prolifico ha credo sì ha prodotto circa 700 e passa opere e J-pop sta facendo non lo so credo che abbia acquisito in qualche modo i diritti su tante di queste perché appunto ha creato questa intera collection nel proprio catalogo quindi assolutamente Tezuka è da recuperare e io pian piano cercherò di fare altrettanto però un altro grande autore però secondo me un po' misconosciuto ecco dalla massa e che però dovreste recuperare secondo me è Kazuo Kamimura di cui anche in questo caso ho da presentarvi sia un volume unico e sia un cofanetto come vi dicevo partiamo dal cofanetto perché secondo me vi verrà più facile regalarlo perché si tratta di Lady Snowblood e se non sbaglio è da questo racconto che è stato tratto sostanzialmente Kill Bill quindi regalare questo manga che come vedete sono solo tre volumi fa la sua figura ecco secondo me i disegni di Kamimura sono non so mi viene da definirli semplicemente sexy ma un sexy che non è volgare è una sensualità non lo so che ti cattura ti affascina e da cui non riusciresti a staccarti se tra l'altro la vedessi in forma reale perché le donne che rappresenta Kamimura sono praticamente delle femme fatale diciamo così però in un modo tutto loro e in questo caso ovviamente si tratta comunque di una donna che cerca vendetta ed è incredibile non lo so non so spiegarvi diversamente però Lady Snowblood è uno degli acquisti che ho fatto tra l'altro questo era usato ed è stato tenuto benissimo e come vedete tra l'altro è sempre di J-pop quindi J-pop è una casa editrice da tenere d'occhio se vi interessa comunque recuperare anche qualche autore diciamo insomma importante e magari leggermente di nicchia perché vi cacciano fuori queste cose qui e quindi tra l'altro se anzi se il vostro destinatario non è un appassionato di manga magari o comunque magari ha mostrato interesse per il fumetto ma non ha particolarmente idea da dove cominciare ma è un appassionato di cinema e quindi sicuramente chi l'avrà visto ecco magari al fumetto manga con Lady Snowblood secondo me è un'ottima idea perché troverebbe una storia in qualche modo familiare perché conoscerebbe vagamente ciò che poi ha preso ispirazione da questo fumetto e però insomma scoprirebbe un mondo diverso attraverso un autore che tra l'altro sempre tramite J-pop sono usciti altri suoi volumi unici molto interessanti tipo I fiori del male poi non mi ricordo più ce ne sono altri però io in particolare vi voglio consigliare questo ovvero Una gru infreddolita storia di una gescia questo è stato scritto e disegnato da Kamimura mentre Lady Snowblood tra l'altro coinvolge nella sceneggiatura Kazuo Koike che è un altro grande autore ma parlando di storia di una gescia appunto qui vediamo sostanzialmente una storia che magari a qualcuno potrebbe ricordare memorie di una gescia il famoso romanzo e poi film che parla appunto della storia di una ragazzina che viene venduta in pratica dai genitori per poi essere educata e cresciuta per diventare una gescia ultra famosa tra l'altro a proposito il romanzo è abbastanza artefatto insomma tante cose non sono esattamente veritiere quindi vi consiglio semmai di leggere la biografia della donna che lo ha ispirato Mineko Iwasaki che si intitola La storia proibita di una gescia ma questo è un romanzo quindi ci arriveremo dopo per i romanzi invece in questo caso avete appunto un'altra storia di questa ragazzina che tra l'altro siccome si intitola così il manga vi spiego il perché perché semplicemente lei aveva questa abitudine per cercare di resistere al freddo di mettersi su una gamba sola come se fosse una gru insomma che riposa quindi per risparmiare le energie le forze che dopo tutto in effetti le servono per affrontare un mondo che è quello del mondo fluttuante dove appunto insomma si creavano questi quartieri dei piaceri che non erano esattamente il luogo ideale per una ragazzina dove crescere in maniera innocente perché appunto veniva avviata subito agli studi per diventare una gescia o in realtà se no peggio ancora per diventare una oiran quindi una prostituta perché attenzione c'è una bella differenza la gescia è una cosa e le oiran le prostitute sono un'altra e quindi per capire meglio anche questa differenza vi consiglio come altro manga Sakuran di Mojoko Anno Mojoko Anno per chi gli suona familiare questo cognome è la moglie di Hideaki Anno quindi il regista di Evangelion giusto per capirci di chi stiamo parlando e questa è la moglie ed è altrettanto capace altrettanto brava nel suo mestiere e appunto in Sakuran ci racconta praticamente un'altra storia di un'altra ragazzina che però invece di diventare una gescia diventa una oiran queste due figure hanno delle educazioni molto simili ma si distinguono per appunto la loro attività e i loro vestiti in questo caso diciamo che si nota abbastanza quanto le oiran dovessero indossare vestiti molto più appariscenti vestiti ma anche acconciature cioè è una cosa completamente diversa e Sakuran già dà un'idea appunto di queste distinzioni ma ora passando ai libri se la figura della gescia e in realtà quindi anche delle oiran vi intrigano da sempre o intrigano chi riceverà i vostri regali di Natale io a questo punto non posso che consigliarvi intanto il primo poi ci sono anche altri saggi e traduzioni di questa ragazza comunque io vi consiglio il suo primo saggio Gesha Monogatari di Miriam Nobile e la trovate con questo nome proprio Gesha Monogatari anche su Instagram io appunto sono riuscita a recuperare finora solo i suoi primi due saggi perché è una ragazza che non lo so come fa ma non ho il tempo di leggere le cose che pubblica che già ne sta facendo altre e davvero ha sviscerato qualsiasi cosa e in realtà forse non ha finito credo che il suo lavoro sia infinito appunto eterno perché ha sviscerato già tantissimo ma ancora non fino in fondo la figura della Gesha questo è appunto il suo primo saggio e ci racconta proprio la storia della Gesha poi con altri suoi scritti e addirittura tramite Instagram promuove dei freebie quindi dei contenuti gratuiti continua ad approfondire la figura della Gesha in ogni suo aspetto quindi le arti che studia le sue acconciature il trucco il vestiario in generale la sua condizione di donna che comunque è in realtà un artista e il mondo in cui viveva e quindi diciamo anche le difficoltà che queste donne vivevano nella loro epoca e tra l'altro anche la figura in sé che adesso insomma praticamente sta scomparendo Miriam è un pozzo di conoscenza di questa figura e quindi vi consiglio di recuperare il suo libro dovreste trovarli tramite Amazon tranquillamente perché ha reso disponibili sicuramente i primi due ma anche altri libri e traduzioni che ha fatto ad esempio ha tradotto se non sbaglio la storia di un'altra Gesha molto famosa altrimenti basta che la contattiate su Instagram e secondo me questo è davvero un libro che per qualcuno affascinato dal Giappone e da questa figura particolare che in Occidente è stata molto molto fraintesa ecco apprezzerà sicuramente perché cioè sono 300 pagine solo questo libro ma non lo so ci sono anni di ricerca e di studio che veramente sono secondo me alla fine impagabili e questo è costato solo 18 euro quindi secondo me vale la pena che regaliate o vi regaliate vi facciate regalare questo saggio o i successivi detto questo passando poi invece ai romanzi veri e propri e poi direi che concludiamo qui i miei suggerimenti perché ce n'è già abbastanza quindi adesso passiamo a quelli per persone comunque interessate alla lettura insomma a lettori accaniti che spero però appunto non abbiano ancora avuto occasione di leggere i titoli che vi andrò a suggerire innanzitutto vi suggerisco i miei ultimi due acquisti e quindi mi dispiace per chi pensava magari di regalarmeli ovvero Piercing di Ryu Murakami il nuovo romanzo tradotto per Atmosfere Libri e di questo autore che fino a poco tempo fa era diventato diciamo introvabile vi faccio presente che ho detto Ryu Murakami e non Haruki Murakami sono due autori diversi e di Ryu Murakami ho già letto Blu quasi trasparente se volete magari recuperare anche quello lo trovate senza problemi ora invece una volta era praticamente impossibile trovarlo quindi grazie ad Atmosfere Libri stiamo recuperando di nuovo quest'autore che è stato molto controverso per i temi specialmente perché molto legati al sesso e comunque anche insomma qualche perversione diciamo che già alla sua epoca aveva superato alcuni limiti di tabù e cose diciamo che rimanevano non dette e questo è un romanzo che parla di un uomo di circa trent'anni che nutre un certo desiderio molto scabroso molto perverso verso la propria figlia ma non si tratta di di stupro o pedofilia in realtà si tratta di volerla trafiggere con un punteruolo da ghiaccio e io non so spiegarvi il perché abbia questo desiderio malsano però siccome rimane lui stesso in effetti sconvolto da questa da questo desiderio che veramente non riesce a capire da dove venga si allontana dalla famiglia e però cerca di proiettare questo istinto poi su una giovane prostituta che però evidentemente si presta forse si presterà a soddisfarli questi desideri non lo so devo ancora leggerlo l'ho comprato apposta ma secondo me sarà molto figo e volevo suggerirvi di comunque conoscere quest'autore perché basta Ruki Murakami andiamo di Ryu Murakami che secondo me sarà molto più coinvolgente e poi appunto già che ci sono vi ho citato oltre a piercing anche blu quasi trasparente e perciò questo invece potreste trovare diciamo la mia recensione in un mio post su Instagram sul mio profilo per chi non mi seguisse mi trovate come orient underscore ale 94 dove vi parlo appunto delle mie letture e appunto il mio secondo acquisto sempre a proposito di letture e anche di Murakami e questo racconto scusatemi questa raccolta di racconti del Giappone si intitola dove appunto in realtà gli autori che troviamo all'interno sono effettivamente il nostro Haruki Murakami classico ma anche ovviamente quindi Banana Yoshimoto non ci si poteva esimere però anche altri autori sia giapponesi che non che ci raccontano dal loro punto di vista quindi il Giappone e ad esempio trovereste tra quelli giapponesi ancora Fumiko Hayashi ma anche tra quelli invece stranieri Margaret Yursenar che è l'autrice delle memorie di Adriano per esempio oppure anche Italo Calvino perciò insomma troviamo anche un po' di Italia ma d'altronde Italia e Giappone hanno sempre avuto dei rapporti molto stretti ancora oggi e quindi ecco mi incuriosiva leggere dei racconti di qualche autore che ancora magari non ho affrontato nelle mie letture giornaliere e magari chi lo sa scopro che il suo stile di scrittura mi piace e lo approfondirò in futuro quindi secondo me è anche questo un buon regalo per qualcuno che non sa se impegnarsi o meno nella lettura di autori che ancora non conosce e però ecco anche sempre per scoprire le varie sfaccettature che il Giappone può offrire e che continuano a essere qualcosa da scoprire ogni giorno insomma sono passati ormai secoli da quando il Giappone ha dei contatti ecco frequenti e regolari con l'esterno perché c'è stato un periodo che invece si è chiuso ha chiuso le proprie frontiere insomma al resto del mondo ecco da quando comunque le aree aperte diciamo che l'Occidente non è mai riuscito a capirlo fino in fondo forse e c'è chi dice che forse non ci riuscirà mai però ecco questo tipo di raccolta secondo me vale la pena per provare a spingersi un po' più in profondità grazie appunto allo sguardo non solo di autori giapponesi ma anche appunto stranieri tra i quali vi suggerisco velocemente c'è l'Afcadio Earn anche in quella raccolta e io però voglio anche suggerirvi questo bellissimo volume illustrato di storie di fantasmi del Giappone dove appunto l'Afcadio Earn che è un autore che ha avuto una vita molto travagliata ma in Giappone diciamo ha trovato il suo logo di pace mettiamola così e oltre a vari racconti originali propri ha raccolto anche per esempio questi dedicati agli yokai quindi appunto a spettri magari maligni appunto che fanno parte del folklore giapponese e in particolare in questo in questo volume sono illustrati da Benjamin Lacombe che ha veramente uno stile di illustrazione molto evocativo che secondo me si sposa benissimo con i racconti dedicati a dei fantasmi e ad esempio per quelli che ho letto per adesso perché ce l'ho ancora in corso come lettura trovate naturalmente la storia di Utamaro no non Utamaro scusatemi Urashima Taro che è quel giovane che ha conosciuto il re drago che vive sotto sotto al mare è stato sposato con la figlia e poi però quando ritorna scopre che in realtà il tempo che ha passato sott'acqua sulla terraferma in realtà è stato molto più più lungo e tipo centinaia di anni e quindi torna che non trova più nessuno delle sue conoscenze e poi questa storia in realtà ha una morale eccetera però non ve la voglio spiegare voglio che la leggiate quindi c'è questa storia qui ma ad esempio si parlerà anche del Rokuro Mukubi che è uno yokai che di solito è all'aspetto di una donna di cui però si allunga tantissimo il collo oppure si parlerà ovviamente dell'Ikirio che è uno spirito vendicativo che nasce dal rancore che un'anima prova verso qualcuno o qualcosa ed è uno degli esempi più famosi è quello presente nel Genji Monogatari quindi per chi magari già conosce quest'opera ovviamente conoscerà anche quello yokai però vedendo le cose narrate dall'Afkadi O'Earn illustrate da Benjamin Lacombe secondo me l'esperienza sarà completamente diversa anche per chi conosce già qualcosa di questi racconti quindi storie di fantasmi del Giappone è un ottimo regalo ma poi potreste anche regalare il secondo volume diciamo sempre illustrato e sempre scritto dagli stessi autori dedicato agli spiriti giapponesi quindi secondo me lì trovereste proprio cose come Lakitsune e altri magari un po' più famosi come la volpe appunto o il tanuki o qualche altra cosa del genere e in quel caso il volume ha una copertina gialla così lo riconoscete ma basterà scrivere anche l'Afkadi O'Earn e Benjamin Lacombe e sicuramente lo trovate e poi tornando invece sui romanzi solamente scritti senza illustrazioni ma comunque molto molto belli lo stesso allora innanzitutto voglio sempre spingere Keigo Igashino perché ve ne ho parlato in una scorsa puntata del podcast di Japan Wildlife perché io mi sono appena laureata in giapponese e la mia tesi appunto parlava della rappresentazione delle donne nei romanzi appunto di Keigo Igashino l'ultimo romanzo che ho letto di suo è Il Segreto del Lago ma vi raccomando praticamente ogni cosa di suo che è uscita in Italia se volete scoprire altri titoli vi raccomando di recuperare quella puntata però ecco ad esempio Il Segreto del Lago come vedete non è troppo spesso e vi dirò anche come come storia insomma non è per niente impegnativa si tratta comunque di un giallo noir perché questo più o meno è il genere con cui è diventato super famoso Igashino quindi anche gli altri romanzi che vi suggerisco nell'altra puntata sono su questo su questo genere gialli noir thriller più o meno più o meno una roba del genere soprattutto poliziesco ecco e quindi in particolare Il Sospettato X e L'Impeccabile sono proprio dei classici gialli alla Igashino ecco quindi se volete scoprire di più vi rimando alla scorsa puntata e infine vi suggerisco altre due letture di Edizioni e.o che ho recensito sul sito di Steinerd quindi lì trovate anche qualcosa di più approfondito riguardo questi due libri perché sono uno Heaven di Mieko Kawakami Kawakami era già stata pubblicata sempre da Edizioni e.o con Seni e Uova che però è un romanzo abbastanza spesso quindi se volete regalare qualcosa di più abbordabile insomma anche che appaia meno impegnativo Heaven come lunghezza ci può stare come contenuto non lo so insomma regalatelo alla persona giusta perché va a trattare una storia comunque di bullismo anche abbastanza esplicita comunque e non è semplice da leggere soprattutto per chi magari ha comunque subito questo tipo di vessazioni quindi ve lo raccomando perché la scrittura della Kawakami è appunto diretta senza troppi fronzoli appunto non cerca di edulcorare la pillola su questo tipo di cose e però il bullismo allo stesso tempo è anche un argomento sempre molto caldo quando si parla di Giappone e di scuola giapponese e mi ha colpito proprio come un pugno allo stomaco proprio per la sua completa sincerità e onestà nel raccontare alcune scene quindi Heaven ve lo raccomando perché comunque narra anche una storia di amicizia che nasce proprio a causa di questi avvenimenti di bullismo dove però diciamo i due protagonisti reagiscono in maniera diversa e ci fa riflettere anche su questo su come le persone reagiscano in modo diverso a ciò che gli capita anche se magari sono cose che possono accomunarli a qualcun altro ecco quindi c'è Heaven altrimenti i terrestri di Murata Sayaka lei sempre è stata pubblicata a sua volta in precedenza da Edizioni E.O. con il suo famosissimo la ragazza del convenience store anche questo ne trovate la recensione come anche Senni e Uova anche questi due su Stay Nerd quindi vi ho già parlato di queste due autrici in qualche modo Murata Sayaka si è fatta sentire per diciamo la stranezza in qualche modo dei loro personaggi dei suoi personaggi soprattutto delle sue protagoniste perché diciamo che sono entrambe delle outsider che in realtà da sole si isolano dal resto della società perché sanno già di essere diverse e di solito in Giappone si tende a prediligere l'unità nel senso anche proprio di identificazione bisogna identificarsi col tutto e non bisogna spiccare come singolo quindi si deve cercare di battere il chiodo che sporge così come si dice proprio in Giappone è appunto anche la protagonista di I Terrestri è una ragazza che sviluppa anche un suo coping meccanismo un meccanismo appunto di sopravvivenza per appunto sopportare quello che sta vivendo in quanto diversa ecco mettiamola così e anche in questo caso la scrittura si fa brutalmente onesta man mano che si avanza con le pagine e all'inizio non sembra essere quello che poi diventerà perché appunto si parte con una ragazzina che in qualche modo nel suo modo innocente di ragionare cerca di immaginarsi di essere una maghetta e con i suoi poteri quindi riesce a sconfiggere il male che poi non è altro che appunto le brutte esperienze che vive sia in famiglia sia in altri contesti come quello scolastico non approfondisco oltre proprio perché praticamente significherebbe fare spoiler di ogni cosa e quindi però mi ha colpito molto anche questa come lettura e ve ne ho parlato anche sul mio profilo Instagram pure di questa quindi veramente troverete suggerimenti e spiegazioni del perché vi suggerisco questi libri sia su Stay Nerd sia sui miei profili social perciò io concludo qui perché mi sembra di avervi dato sufficienti suggerimenti poi in realtà qua dietro di me ce ne sono molti altri perché per chi non ha il video in ascolto qua sopra di me ad esempio si intravedono le tazze e le statuine di Your Name perché comunque io ho amato molto il film e ho recuperato anche il manga e altre opere trasposte in manga del regista quindi di Makoto Shinkai però insomma ci sono altre serie brevi che potreste vedere qua alle mie spalle ad esempio una molto recente che potreste regalare ad una appassionata di Aya Zawa quindi qualcuno che ama molto Nana una delle sue opere più famose e forse quella che ha ricevuto il primo vero successo ancora prima di Nana ovvero Io sono un angelo perché consta di cinque volumi e quindi anche questi sono molto recuperabili facilmente reperibili perché sono stati appena ristampati da Planet Manga e insomma avete decisamente molte idee su cui riflettere e ponderare perché penso anche che siano accessibili proprio da un punto di vista economico insomma non importa quanto guadagnate o se siete molto giovani quindi dovete chiedere i soldi ai vostri genitori per fare i regali ai vostri amici ma sono tutte cose che veramente non costano così tanto forse solamente i giochi da tavolo possono arrivare ai 30 euro a esagerare invece sì insomma con i libri 20 euro ve la cavate al massimo quindi penso che siano dei suggerimenti che davvero siano accessibili a tutti e quindi spero che qualcuno di questi faccia il caso vostro io allora vi ringrazio per avermi ascoltata anche questa volta e ci risentiamo presto qua su Japan Wild Life nel frattempo mi trovate come vi dicevo soprattutto su Instagram e su Stay Nerd quindi mi raccomando becchiamoci lì a presto bye bye quindi ciao